Scattano le manette per nove persone con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti aggravato. Gli indagati sono di età compresa tra i 21 e i 43 anni e tutti residenti nelle province di Napoli e Caserta. L'indagine, iniziata lo scorso mese di aprile, trae origine da altre attività condotta dai carabinieri del Comando di Antifalsificazione Monetaria di Roma. Le attività investigative hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e di ricostruire il loro modus operandi. Due detenuti, intrattenendo contatti telefonici con l'esterno, riuscivano a farsi inviare pacchi postali al cui interno, tra i generi alimentari, venivano occultati quantitativi di hashish, che poi provvedevano a distribuire all'interno della struttura penitenziaria, avvalendosi della complicità di altri due detenuti.